Ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di noi che usiamo Lightburn. In questo video andremo a parlare di livelli multipli. Livelli multipli sono una funzione che è stata introdotta con la versione 1.2.0 e già circa più di un anno fa, ma li andremo a vedere dopo la sigla. Prima dell'introduzione della versione 1.2.0.0 c'erano dei livelli diversi, quindi lavorazione di livelli diversi. Adesso vi faccio vedere cosa abbiamo adesso, quindi adesso mi posiziono sul piano di lavoro, disegno un rettangolo e vado a far vedere che qua posso scegliere fra linea, riempimento e offset fill. In passato le voce erano 4, c'era linea, riempimento, linea più riempimento che era un livello unico dove mi faceva fare prima il riempimento e poi la linea e poi c'era offset fill. Adesso questo linea più rendimento è stato supplito dai multilivelli, livelli multipli o livelli con sottolivelli. Allora, come funzionano, cosa possiamo fare con questi e poi vediamo una lavorazione un po' particolare con questi livelli. Premetto che i parametri che vedete sono del tutto casuali perché vengono da lavorazioni precedenti che molto brevemente ho fatto. Andiamo a vedere come si valorizzano questi livelli multipli. Qualcuno di voi li avrà già visti, vabbè, ci saranno tanti magari che non li conoscono nemmeno ancora. Allora, si fa un doppio clic sul livello e si apre. A questo punto vedete che solitamente abbiamo il solo livello che è definito qua nella finestra tagli a livelli. Possiamo aggiungere qualcos'altro, ovvero sia io posso aggiungere un altro livello cliccando qui sul più e verrà fatto un livello uguale a quello precedente, diciamo, o simile a quello precedente, in questo caso l'ha preso di default perché qui se vado qua sono uguali perché ho un livello di default, però io posso fare anche la sceglione di riempimento. Quindi in questo caso io faccio linea più riempimento. Quindi se io vado a, diamo l'ok, vedete che si è trasformato in multi e qui mi fa linea più riempimento. E come lo vedo? Lo vedo che vado a deselezionare, questo lo andiamo a cancellare, vado a fare l'anteprima e vediamo che, ve lo faccio vedere, mi fa per prima la linea, vedete, prima fa la linea e dopo fa il riempimento perché come nel livello normale che esegue livelli nell'ordine, quindi dal primo all'ultimo, anche qui le esegue nell'ordine, però invece dal primo all'ultimo va da sinistra a destra. Allora, possiamo poi al limite andare a togliere un livello oppure possiamo andare a aggiungere altri e diciamo che i multilivelli possono contenere fino a 11 livelli differenti. Cosa possono servire? Dopo lo vediamo. Allora, facciamo innanzitutto, togliamo questo e vi faccio vedere, togliamo anche questo, e vi faccio vedere quello che potremmo fare con questa funzione. Ora, io mi creo due livelli, la prima vi faccio una linea, la seconda voglio farmi un livello di riempimento, quindi faccio più e faccio linea, riempimento. Quindi ho due livelli, uno linea e uno riempimento, come vi ho fatto vedere adesso. Però voglio fare un'altra cosa ancora, perché voglio andare a mettere all'interno di questo rettangolo, voglio andarci a mettere una scritta. Quindi io vado con, prendermi una lettera, vado a cercare un font, che è my font, solitamente utilizzo quello per gli esempi, e poi vado a scrivere una cosa molto semplice, che è noi che usiamo, noi che usiamo lightburn. Ok? Allora, è di riempimento anche questo, qui però lo andiamo a portare a capo, lo andiamo a selezionare in questo modo, lo metto qui dentro, e come vedete mi ha fatto quello che mi aspettavo, ovvero sia ha messo la scritta e, essendo due riempimenti, quello sopra viene tolto. Vediamo con l'anteprima cosa succede. Vedete che viene fatto in questo modo, andiamo a vedere come viene fatto, perché viene fatto, prima viene fatta la scritta, perché è interna, poi viene fatta la linea, e poi viene fatto il riempimento in questo modo. Ok? Allora, fino a qui niente di eccezionale, perché potremmo aver fatto anche tutto con un semplice riempimento, e non avremmo avuto grossi problemi. Però io voglio fare un altro tipo di lavorazione, voglio fare una lavorazione un pochino differente. Allora, ritorno e riapro il mio livello. Io ho la mia linea, il mio riempimento, voglio duplicare questo livello, e quindi me lo duplico, perché voglio mantenere le stesse, mettiamo che qui io abbia 1250, perché è un riempimento abbastanza leggero, un'incisione abbastanza leggera, lo voglio fare in questo modo, e poi me lo vado a duplicare in quest'altro livello. Ah no, scusate, lo volevo duplicare, non farne un altro, quindi duplicare questo qua, che copia, e vedete che anche questo avrà 1250 come questo. A questo punto però voglio fare una cosa ancora diversa, cioè voglio andare a modificare i parametri completi di questo livello di riempimento. Ora sto lavorando sul 2, ok? Quindi cosa faccio? Voglio andare a mettere non 0,10 come intervallo di linea, ma ci metto 3, 3 mm, ok? Poi dopo vado a fare che questa direzione della lavorazione abbia un angolo di scansione di 45 gradi, cioè voglio che lavori in questo modo. Poi facciamo un'altra cosa, andiamo su quest'altro livello, faccio anche qua, vado a cancellare questo, e ci metto 3 mm, e qui come angolo di scansione faccio almeno 45. Ok. Vado a chiudere, e adesso andiamo a vedere l'anteprima com'è. Ecco, vedete? L'anteprima me lo fa in questo modo, ma me lo fa in questo modo, e vi faccio rivedere come. Ripartiamo da capo, mi rifà la linea, quindi mi fa la scritta, in questo caso passa più volte perché è il livello molto probabilmente, e poi comincio a fare le righe, e mi completa il lavoro in questo modo. Quindi verrà fatto un disegno così a quadretti inclinati, e poi la riga, e poi la scritta sarà completamente vuota. Se io vado a prendere questa, e poi la vado a ingrandire, magari si capisce meglio. Poi vado a fare anche un'altra cosa perché questo livello è... Non sto a centrarlo, eccetera, eccetera. Quindi questo livello, il primo livello, se non vado errato, se io l'avevo notato dall'anteprima, mi falta quattro passaggi, ne voglio solamente uno. Ok. Allora, andiamo a vedere l'anteprima di adesso. Ecco, ricominciamo. Non mi farà più i quattro livelli, quindi la scritta verrà leggermente più veloce. Me la fa tutta così. In questo modo, andiamo a lavorare così. Quindi mi contorna la scritta, e non ci passa sopra. Quindi questo è un tipo di lavorazione che, a mio avviso, potrebbe dare qualche risultato simpatico. Adesso vado a chiudere questo, e vi faccio vedere, questo lo vado a cancellare, e vado ad importare sul piano di lavoro un progettino che ho fatto io. Così ve lo faccio vedere anche realizzato come è venuto. Allora, vado in i file, progetti recenti, portachiavi, e questo è il portachiavi che ho fatto del mio club. e vedete che qui ho un, diciamo, un multiplo, un livello multiplo. Questa volta però ho ben uno, due, tre, quattro, cinque passaggi. Il primo è un passaggio, ma è una linea, adesso vi faccio vedere come si comporta, non riempita. Vedete che è rosso? Perché è rosso? perché qui sono andato a valorizzare in rosso, quindi come non lavorare, output sublayer, cioè esci, fai uscire, lavora questo sublayer, l'ho messo no, perché se lo vuessi far lavorare lo metterei più. Invece lo metto rosso, quindi non me lo fa. Poi ho fatto tre sottolivelli, questo è il primo, che è a tre millimetri, come ho fatto vedere, esempio di prima, ma con un'inclinazione di 60 gradi. Il secondo l'ho fatto orizzontale e il terzo l'ho fatto invece con meno 60 gradi. Poi vedete che ci sono anche, questo lo vado a chiudere, ah, e questo è la linea, perché poi voglio che alla fine mi faccia la linea. Quindi vi faccio vedere che tipo di relazione viene, viene leggermente diversa dall'altra. Però vedete anche che io ho messo qui un'altra linea e ci sono dei contorni di livello 7, che è un taglio, perché questa lavorazione non mi fa il taglio, perché mi fa solamente le linee e le linee mi avrebbe tagliato anche l'interno, che non avrei voluto. Per cui ho dovuto fare un offset di un 0,01, quindi è attaccato, e per poter tagliare sia il bordo del nostro oggetto, in questo caso il portachiavi, sia anche la finestrina per andarci a mettere il laccetto di cuoio che poi solitamente io metto nei portachiavi. Andiamo a vedere l'anteprima. L'anteprima sarà così, ovverosia sarà con un effetto a esagoni, perché? Perché vedete, però lavora diverso, perché prima avete visto che faceva subito le lettere, invece io gli ho detto col primo livello non escludilo quel livello lì, e vedete me lo sta escludendo, qui fa solamente il contorno, per cui volendo io potrei farlo anche solo in questo modo, non mettendo più la linea in fondo, me lo fa in questo modo, però volevo che me lo contornasse, dopo il terzo passaggio me lo chiude in questo modo, e poi andrà a fare i tagli. Vedete? Fa fare i tagli, e mi sagoma il tutto. Ok? Quindi il taglio l'ho fatto con una sagomazione leggermente più grande rispetto a quell'altra, e poi vi farò vedere come è venuto il risultato. Ecco, questa è una, diciamo, dimostrazione per far vedere come possiamo lavorare il nostro materiale, i nostri oggetti, con quel tipo di lavorazione. Io ho dato 3 mm, perché ho voluto enfatizzare la distanza fra una riga e l'altra, perché il riempimento che cos'è? Non è altro che un riempimento, quindi non sono tanto righe che sono attaccate l'una all'altra, solitamente per 0,09 oppure 0,10, che è l'intervallo di linea del mio laser, e quindi mi danno l'effetto di riempito. Però io posso anche allargarlo, avete visto, l'ho allargato fino a 3 mm, e mi fa un intreccio molto semplice, e forse anche più semplice, andarlo a fare a mano. Quindi, questo potrebbe essere un tipo di lavorazione. Io mi auguro che questo video vi sia piaciuto, perché è un video che così non l'avevo ancora fatto, e ho fatto alcune lavorazioni, anche tempo indietro, con questo tipo di tratteggio, che ha un effetto su certi oggetti abbastanza simpatico. Ecco, quello che vedete adesso sono quelle due cose che ho fatto, una l'ho anche colorata, e così, ma era giusto per fare una prova per fare questo video. Come vi dicevo, spero che vi sia piaciuto, se è così, un like, iscrivetevi al canale, perché sul gruppo siamo in 6.000, sul canale siamo a 3.000, ragazzi, quei 3.000 che sono nel gruppo vengano anche di qua, iscrivetevi, che è importante per me, e di nuovo, vi abbraccio tutti, vi saluto, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao. Grazie a tutti.